Perché scegliere YouTube? Allora, la scelta di YouTube si pone all'interno di tutta quanta la dinamica sociale in cui la pubblica amministrazione non può non esserci. YouTube, specialmente per quelle amministrazioni che sono abbastanza vive e hanno prodotti da pubblicizzare, ma in effetti siamo tutti sul mercato, YouTube è una delle vetrine fondamentali, specialmente per quello che riguarda i video. Noi come Inel avevamo un grandissimo patrimonio video, specialmente di video storici, e quindi è stato naturale scegliere un social di quel tipo per poterli condividere sia con quelli che erano i nostri stakeholders, ma anche per dare un'immagine dell'istituto a tutto quello che era il popolo che gira intorno alla pubblica amministrazione. Perché una pubblica amministrazione ci deve essere per valorizzare quello che ha. YouTube non è solo video, è anche la possibilità di fornire degli audio con dei commenti di foto, quindi è qualcosa che può aiutare a socializzare il patrimonio delle pubbliche amministrazioni. E come si fa però? Come si fa? Bisogna lavorarci sempre, quindi non bisogna fare in modo che sia una cosa episodica, quindi giornalmente ci devi lavorare sopra, devi iniziare a cercare quello che già hai. Noi abbiamo fatto così, abbiamo prima creato una base con tutto quello che avevamo già, dopodiché abbiamo cominciato a cercare fuori quello che poteva interessare Inel e il mondo. E di lì si è aperto un mondo, perché adesso, l'altro ieri siamo arrivati a più di 4.000 video, quindi è diventata una biblioteca grandissima, dove tutti possono trovare le cose più fondamentali sulla sicurezza sul lavoro, ma anche sullo sport paralimpico, sull'Italia di un tempo, l'Italia che lavorava, come si lavorava un tempo, i pericoli, i rischi di un tempo. Cioè è diventata una banca dati nazionale, quindi non sono chiusa a chi opera nella pubblica amministrazione. Grazie.